Buongiorno, sono Patrick Hofer, presidente e amministratore delegato della Corsino Corsini S.P.A. La Caffè Corsini è un'azienda fondata ad Arezzo nel 1950 e che è diventata oggi una delle realtà più importanti del mercato italiano della torrefazione di caffè. Oggi importiamo oltre 100.000 sacchi di caffè verde direttamente dai paesi di origine, tutti paesi affascinanti come Brasile, Colombia, Kenya, molti paesi asiatici. Li importiamo direttamente da questi paesi, li portiamo ad Arezzo, li tostiamo, li confezioniamo e li vendiamo nei vari canali. Il nostro rapporto con Estra risale ormai a più di 20 anni fa ed è un rapporto di grande soddisfazione perché per noi Estra significa fornitura di energia, fornitura di gas e è importante e fondamentale nel nostro processo produttivo essendo tutto il nostro processo di tostatura ovviamente alimentato a gas. La torrefazione Corsini è un nostro cliente da innumerevoli anni. L'energia per loro è vitale, basterebbe una piccolissima interruzione per creare gravissimi danni. Ecco perché hanno bisogno di un fornitore affidabile come Estra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.